Musica Appuntamento con la resegna stampa, buongiorno, benvenuti a questo appunto appuntamento con l'informazione locale e con i giornali del resto del carriere adriatico, dalle 7.30 del mattino, buongiorno, ben ritrovati a tutti Allora andiamo subito a vedere il santo del giorno, poi il tempo Allora il santo di oggi è Santo Ribio Romo Gonzales, ma è anche per esempio San Cesario Il sole è sorto le 6.53, tramonterà le 17.50, il cielo sarà oggi parzialmente nuvoloso le temperature sono in aumento, ancora martedì 26 cielo nuvoloso con temperature ancora in aumento specie nei valori massimi Il tempo sarà ancora stabile anche nella parte centrale della prossima settimana I giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro, terzo mandato da blindare Riccia la prova del Consiglio, mal di pancia anche nella maggioranza L'obiettivo no ad assenze ed estensioni Mentre a Loreto si attende il Papa, Papa Francesco che sarà pellegrino per 7 ore Tozza, Milano Moda, della Valle, dice la cultura dell'Italia deve essere un modello per tutti Mentre per lo sport, allarme rosso, il fano torna nella zona calda Ma a centro pagina la fotografia del Carnevale di ieri, il Carnevale delle donne che è perfetto, a flusso record, nonostante l'ingresso a pagamento Doppie casse, nessuna fila, madrina della domenica, una scatenata Jessica Notaro Il Papa, dicevamo, Papa pellegrino a Loreto per 7 ore Ancona forse sfuma, Spina, l'Arcivescovo di Ancona ci spera ancora Il cartellone ufficiale parla di una visita del Papa con i fedeli, i sacerdoti insieme nella piazza della Madonna di Loreto Dicevamo dell'Arcivescovo Spina che dice anche noi lo aspettiamo ad Ancona La seconda visita, quella del Papa, a Nelle Marche Dopo quella del 4 ottobre del 2016 ad Arquata del Tronto Per visitare il Borgo Martire del Terremoto La partenza dal Vaticano alle 8 del mattino del 25 marzo Poi l'atterraggio alle 9 a Montorso Alle 9.30 arriverà in auto nella Basilica della Santa Casa Dove poi celebrerà la Santa Messa e pronuncerà l'Angelus Il discorso e l'Angelus a mezzogiorno Alle 12.30 poi Papa Francesco pranzerà con i Vescovi delle Marche E ripartirà dal Santuario alle 14.30 14.45 sempre in elicottero per il Vaticano Dove atterrerà alle 15.45 Il Carnevale di Fano invece la domenica è perfetta Flusso record senza ritardi Sono state raddoppiate le casse Sfiorato il numero massimo autorizzato Jessica Notaro conquista tutti La vedete in questa fotografia attorniata dalle ballerine cubane Questi sono i prendigetto invece Con tanti dolciumi lanciati ieri sulla folla La Presidente invece dell'ente carnavalesca Maria Flora Gian Marioli Sotto uno dei palchi premiati Giallo Plasma di Avis Premiata questa mascherata come più bella del palco Vince un weekend nella città di Matera Bello anche il Carnevale dei Bambini Al mattino poi c'è stato anche quello degli animali Insomma la festa per tutti Il Sindaco Serie premiato come ambasciatore delle buone intenzioni La Gian Marioli per il valore etico dato alla Kermess Sapete è stata dedicata alla donna E in particolare per sensibilizzare la violenza contro le donne Folla in mattinata per le sfilate dei piccoli Riconoscimenti per gli amici a quattro zampe Con un carnevale da cani Funambolo sulla darsena Magi e la risalita dei sup Spettacolo e acrobazie Anche sul Porto Canale il coraggio delle donne Mentre la foto vestito da Superman di Luciano Cecchini È per il Carnevale dedicato al cinema Che c'è stato in un noto ristorante dell'entroterra Il Veglione organizzato dall'ex presidente dell'ente carnevalesca E adesso invece andiamo a vedere la pagina di Senigallia Dopo il concerto c'era la sniffata Ma Artur e Iago fiutano la droga Droga nascosta nelle aiuole Sui viali di accesso alla discoteca Mamma Mia Scovata dai carabinieri a quattro zampe Appunto Artur e Iago nella notte tra sabato e domenica Una notte di controlli davanti alla discoteca Locale comunque in regola E quindi c'è tutto il racconto di quello che è stata L'ultimo fine settimana Andiamo a Pesaro invece Questa è la fotografia dello stabile dove c'era la Suzuki C'è un contenzioso che si estende alle aree di sosta Il proprietario chiede al Comune di Pesaro Di acquisire dei terreni a Soria Utilizzati dai residenti come parcheggio Il Comune ha emesso, sapete, l'ordinanza per il decoro urbano Anche per questo stabile a largo tre martiri La proprietà ha ottemperato al provvedimento solo però in modo parziale Il Comune dunque emetterà una seconda e nuova ordinanza Una volta notificata l'ordinanza Il privato ha 60 giorni di tempo per installare ponteggio e teli E 180 giorni per la manutenzione Il Sindaco Ricci però è la prova anche del Consiglio Oggi stasera si annuncia una seduta calda in Consiglio Comunale a Pesaro In particolare sul terzo mandato e il piano delle opere L'opposizione compatta darà battaglia E si dovranno fare i conti con i mal di pancia in maggioranza E sempre a Pesaro Questa è la ferma immagine di un ragazzo ripreso dalle telecamere A scagliare un teppetino Si fa la lista, la conta dei danni Per le notti brave e le scorribande notturne In vari quartieri del Comune di Pesaro Lanci di bottiglie di birra a casaccio Vetri raccolti tanti in diversi quartieri Tra Pantano, Muraglia, Cinque Torri, Loreto, Baia Flaminia, Soria e San Decenzio Qualche bici addirittura buttata in acqua Altre catapultate nella Genica, zona Pantano Insomma di tutto di più in questo articolo Che troverete sul giornale di questa mattina Invece a Iesi i big Cassani e Mancini Alla Teatro Pergolesi per presentare la popolare gara ciclistica dei Due Mari Alla Tirreno Adriatico Lunedì 4 marzo alle ore 21 al Teatro Pergolesi Davide Cassani e lo Iesino Roberto Mancini I CT di due fra le nazionali azzurre più amate Quelle del ciclismo e quella del calcio appunto Si ritroveranno al Teatro Pergolesi Per una serata condotta da Marino Bartoletti Che tutti conosciamo, giornalista sportivo Eppure dalla giornalista Iesina Agnese Testa di Ferro Che appunto presenterà l'arrivo a Iesi Del Tirreno Adriatico Il 18 marzo La corsa dei Due Mari Sotto invece la cronaca Sempre dalla pagina di Senigallia Paura per una 14enne Era ubriaca fradicia 14 anni è già così ubriaca da non reggersi in piedi L'hanno soccorsa i sanitari del 118 Verso l'una di notte di sabato scorso Sempre in una discoteca Il Miami di Monsano E questa ragazzina Poco più che una bambina Che era all'esterno del locale Appoggiata ai muretti della recinzione Non riusciva a reggersi in piedi E sempre dalle pagine del Corriere Andiamo a Visso Dove ci sono ancora disagi Per gli abitanti delle casette Delle SAE Questa volta i problemi si sono registrati Nella zona di Villa Sant'Antonio Nella notte tra sabato e domenica Il vento ha staccato la carta catramata Da alcuni tetti E in un caso l'antenna è sprofondata Dentro la casetta Come si vede in questa fotografia Finendo addirittura nel bagno E qui insomma Naturalmente i residenti sono un po' Come dire Scocciati Per questo disagio Per questo disagio È vero che il vento era molto forte Ma comunque queste cose Non dovrebbero succedere Da Vallefoglia Integrazione e appartenenza Carenti E Ucchielli Dice no al lavoro Da cinque anni Il sindaco Non crede all'esito del sondaggio Effettuato dal comitato civico Vallefoglia La città che tu vorresti Una popolazione A cui piacciono gli eventi Della tradizione religiosa Fa attività sportiva Ma è poco integrata Con gli stranieri Preferisce Pesaro O la Romagna Nel tempo libero O ancora non si sente Cittadina di Vallefoglia È uno spaccato Di quanto emerge Da questo sondaggio Che è stato effettuato Tra i cittadini di Vallefoglia Da parte del comitato civico Dalla Urbino Invece Interesse storico Per il Cappellini Oggi visita Della soprintendenza Lo sfratto Nonostante il possibile riconoscimento Torrico dice Danno all'immagine Della cittata La Valle del Cesano Invece A caccia di fondi europei Per i borghi E la mobilità Siamo a Pergola Serie di bandi E opportunità Che coinvolgono i comuni Del Gal Flaminia Cesano E poi Dal resto del Carlino Invece La domenica trionfale Del Carnevale di Fano Con questa fotografia Ce ne sono Tante meglio Insomma Hanno scelto questa Ma insomma Non è che sia bellissima A parte questo teschio Insomma Che fa un po' così Ma comunque Si poteva già Per lo meno Prendere da di fronte Visto che è un carro Dedicato a Frida Prenderlo da di fianco Con questo teschio Che fa anche Un po' ribrezzo Ma comunque Scelta editoriale Grande festa Dicevamo Il Carnevale Tutto esaurito Mentre il Papa Arriva nelle Marche Feeling speciale E riconoscimenti Dell'Avis Ai donatori Più assidui Ma la notizia La vedremo tra poco È che è morto Ad Orciano Lo scrittore Franco Marini Entriamo nelle pagine interne Andiamo a vedere Quella di Pesaro Dove si parla Del Museo Morbidelli Ieri c'è stata Un'intervista Al figlio Di Giancarlo Scusate Ha parlato Gianni Che svelava Di aver deciso Di mettere in vendita La collezione unica Al mondo Fatta di 350 moto Perché ha deciso Di metterla in vendita? Perché il comune Di Pesaro Nei fatti Non fa nulla Per tenerla In città E dopo che Giancarlo Morbidelli Oggi 85 anni Si è ritirato A vita privata Avendo delegato I figli La gestione Il futuro del museo Con 350 moto Appunto È il figlio Gianni Insieme alla sorella Letizia Ad aver deciso Di mettere in vendita Tutta questa Tutta questa roba Al miglior offerente Non finandosi Delle parole E delle promesse Del comune Mentre Baiocchi E qui siamo Già in campagna elettorale Dice Occorre fare di tutto Per salvarlo E sui social Si scatena Il pro e contro La famiglia Il candidato di centrodestra Punta all'obiettivo vero Ci auguriamo Che il comune Investa in questa eccellenza Che fa parte Del tessuto storico e sociale Della nostra città E ad Armanforte C'è anche Il papà Di Valentino Rossi Che di moto Se ne intende È un patrimonio Dice Graziano Come Rossini Graziano Rossi Contro dunque la vendita Ricchezza eccezionale Per la città Va tenuta qui A tutti i costi Il papà di Valentino È stato anche un pilota Del team Morbidelli Ha sfiorato Di vincere il mondiale Nel 1979 In sella La 250 Dice non era colpa Della moto Però è stata colpa mia In quell'occasione E quindi ho perso il mondiale Il museo di via fermo Contiene almeno 350 moto Acquisite da Morbidelli In tutto il mondo Molte di queste Sono esemplari Unici E c'è tutta l'intervista Che il giornale Ha realizzato Con il papà di Valentino Qui invece Siamo sulla pagina Di Fano Per parlare del carnevale Sfilata E grande festa Senza caos File o litigi Il secondo corso Mascherato È filato Praticamente Liscio Mentre ieri C'è stata La visita Anche di Federico Pizzarotti Il sindaco di Parma Pronto a sostenere Dice lui scherzando Il carro Del vincitore Il vento Forte Metta a suo quadro La città Le forti raffiche di vento Hanno creato problemi ovunque Sia in centro storico Dove è stato buttato giù Il pupo Eccolo qua Caduto Sono dovuti intervenire I vigili del fuoco Per ritirarlo su in piedi E i cimiteri I cimiteri Questo è l'effetto Provocato Al cimitero di Rosciano Continui interventi Da parte di polizia Locale E appunto Dei vigili del fuoco Morto a 94 anni Lo storico Scrittore Storico E scrittore Franco Marini Legatissimo alla sua Urciano Fu anche presidente Del proloco Si è spento a 94 anni Conosciuto da tutti Come il maestro Per la sua lunghissima Attività di docente Di scuola elementare Che gli valse anche L'onorificenza di Cavaliere Al merito della Repubblica Italiana I funerali Si svolgeranno domani Pomeriggio alle 15 Nella chiesa parrocchiale Di San Cristoforo E saranno celebrati Da Don Mirco Ambrosini Siamo in chiusura Andiamo a vedere velocemente Lo sport Abbiamo il calcio Intanto il Fano L'Alma Che tiene testa Al Monza Grandi firme Ma alla fine Perde 1-0 E si ritrova di nuovo Nell'occhio Della ciclone La sconfitta Del Brianteo Determinata Dal gran gol Di Anastasio Risucchia Granata Al terz'ultimo posto Seppur condiviso Con un'altra squadra Che poi è attesa Proprio sabato prossimo Allo stadio Mancini E contro l'Albino Leffe dunque Sarà cruciale Per tentare di non rischiare Di scendere In categorie inferiori E non va bene Nemmeno per la Viz La Viz era partita Benissimo Adesso invece Sta perdendo Continuamente Una partita dietro l'altra Questa è la quinta Sconfitta di fila Siamo consapevoli Del momento negativo Dicono Dalla Viz Faremo tutto il possibile Inimmaginabile Per invertire la rotta E vincere domenica prossima Contro la Virtus Verona Per quanto riguarda Invece La pallavolo La pallavolo Dobbiamo segnalarvi La vittoria Per 3-0 In casa All'Eurosole Di Civitanova Marche In serie A2 Della Golden Plast Il titolo ciclone Golden Plast Ora caccia Ai playoff Per la promozione In A1 Basta poco più di un'ora Di gioco Per sbarazzarsi Di Roma Di Silvestre Paoletti Sugli scudi La Rizza Si esalta Nel finale E vi ricordo Che in esclusiva La partita Della Golden Plast Andrà in onda Questa sera Dopo il telegiornale Delle 22.30 Prima però Avremo Primo cittadino L'appuntamento Con il sindaco In questo caso Di Urbino Maurizio Gambini Se avete domande Da rivolgere Al sindaco E se gli urbinati Che ci ascoltano In questo momento Vogliono intervenire E fare domande Al sindaco Possono farlo Attraverso I numeri Che ormai conoscete Sia la diretta 0721 86 14 33 Oppure Whatsapp O un sms Al 338 Che avete appena visto 4968 250 Mi fermo qui Grazie per aver seguito La nostra rassegna stampa Buona giornata a tutti Ci vediamo stasera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.